Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la maglia di casa dei Wolves per la stagione 2022-2023 in edizione FUN, quella dedicata ai tifosi. La maglia casalinga dei Castor Wolves 2022-2023 presenta i classici colori ambra, bianco e nero. Viene fornito senza alcun elemento di design di fantasia. Ha una base a tinta unita con lo sponsor Astro Pay che appare principalmente in nero con un tocco di rosso. Questa nuova maglia con magliette, calzoncini color ambra e pantaloncini neri è stata nuovamente abbinata con cura al colore distintivo del club. Il design della maglia risulta semplice, pulito ed elegante. I dettagli neri sul colletto, sulle maniche e sui loghi conferiscono un carattere più marcato e aggressivo alla maglia. Non so a voi ma a me questa maglia piace tantissimo. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. È una maglia tintunita ma questo color ambra secondo me è stupendo. Qui in alto vedete il prezzo, non aggiungo altro se non che è il solito prezzo bassissimo. Veramente un'occasione da non perdere. Vi ricordo che in descrizione qua in basso trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia e un link per ottenere un buono da 3 dollari da utilizzare sul sito. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità quindi continuate a guardare il video. Prima di farlo però se il video vi è piaciuto vi prego di lasciarci un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Grazie a tutti.